Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon mercoledì 21 settembre, non è il primo giorno d'autunno come solitamente si crede, l'equinozio quest'anno sarà nella giornata di venerdì, ma noi cominciamo comunque il nostro giornale con alcune indicazioni di viabilità, soprattutto ve ne segnaliamo una con l'aiuto della nostra mappa, a partire da questa mattina e fino alle 18, il controviale di Corso Reumberto nel tratto tra Corso Bramante e via Barrili sarà inagibile per via di alcuni lavori edili. Vi segnalo poi anche le postazioni di oggi degli autovelox della Polizia Municipale che si trovano in Corso Grosseto, Corso Unità d'Italia e Strada dell'Aeroporto e vi ricordo che fino a venerdì sono in azione le telecamere per rilevare le infrazioni al codice della strada in via Principi d'Acaia, via Freius, via Monginevro, via Dinanni, via Cibrario, via San Donato, Corso Umbria e il tratto di Corso Francia tra piazza Bernini e piazza Statuto. Passiamo a vedere adesso la situazione del tempo, questa mattina in città abbiamo sole, le temperature sono nell'ordine di quelle dei giorni scorsi a quest'ora, quindi intorno ai 19 gradi circa, poco più la temperatura dell'aria, poco meno la temperatura percepita, abbiamo ancora un po' di vento da est che espira intorno ai 12 km di ultime raffiche che abbiamo registrato, umidità molto bassa come accade in questi giorni, sopra di poco al 30%. Per oggi dobbiamo attendereci cielo sereno nel corso del pomeriggio, potrebbe arrivare qualche nube in serata, qualche velatura nel cielo ma niente di particolarmente preoccupante, non è prevista pioggia, le massime saranno oggi intorno ai 24 gradi, quindi in leggera risalita nelle ore centrali della giornata. Passiamo a vedere le notizie adesso di Torino Click, l'agenzia quotidiana della città che trovate ogni giorno sulla nostra home page, la prima notizia riguarda il Golden Skate Award che torna ancora una volta al Palavela, siamo alla terza edizione di questa manifestazione dedicata al patinaggio su ghiaccio, si terrà qui a Torino l'8 di ottobre, saranno presenti i migliori atleti della disciplina, da Stefan Lambiel che fu argento alle Olimpiadi di Torino, ai cinesi King Pang e Yan Tong che sono vice campioni olimpici in carica dalle Olimpiadi di Vancouver e cinque volte ieri dati nelle competizioni mondiali. Vi ricordo che il galà sarà trasmesso in diretta su Sky ed è possibile acquistare ancora i biglietti su Ticketuan oppure recandosi al botteghino del Palavela e del Pala Olimpico. L'altra notizia invece riguarda una sperimentazione che come ricorderete è cominciata qualche mese fa, ovvero il mercato dei coltivatori diretti direttamente gestito da Coldiretti durante il pomeriggio in Piazza 4 Marzo, è stata approvata ieri la delibera di trasferimento di questo mercato da Piazza 4 Marzo al Giardino La Marmora in via Cernaia, questo permetterà di superare alcune difficoltà logistiche legate all'allestimento di Piazza 4 Marzo per alcuni cantieri che adesso ci sono e per i deor dei ristoranti e permetterà quindi di portare a termine questa sperimentazione semestrale su un mercato pomeridiano interamente dedicato ai prodotti biologici. Andiamo sulla nostra home page adesso, andiamo a vedere la notizia che questa mattina abbiamo scelto per voi tra quelle che sono pubblicate e ovviamente la notizia più di attualità, cioè la giornata europea in città senza la mia auto che torna come ogni anno il 22 di settembre, quindi nella giornata di domani via Roma sarà chiusa al traffico dalle 6 alle 22 tra Piazza Castello e Piazza San Carlo e in quel punto della via ci saranno una serie di iniziative ed eventi dedicati alla mobilità sostenibile. Su Informa Ambiente che è collegato da questa notizia trovate tutti i riferimenti. Chiudiamo con le telecamere sul traffico del Consorzio 5T, questo è Corso Agnelli all'angolo con Corso Cosenza in direzione sud su Corso Agnelli, situazione vedete tranquilla. Spostandoci invece nella zona ovest della città, qui siamo all'incrocio dell'area del Martinetto su Corso Regina Margherita, tutto tranquillo, non ci sono problemi di traffico, così come in Piazza Aderna in direzione sud su Corso Giulio Cesare, quindi verso il centro città, tutto tranquillo. Chiudiamo con Corso Vittorio all'angolo con Corso Massimo D'Azeglio in direzione sud, anche qua non ci sono problemi, tutto scorre nella tranquillità più assoluta. Bene, è tutto allora per questa mattina, grazie per averci seguito, grazie Paolo Mosso per la messa in onda del giornale e a voi l'augurio di una buona giornata.